buonasera a tutti quelli che vedranno questo video questo qua il canale che si chiama i figli della regina della pace di già qualche anno che c'è ringrazio tutti quelli che hanno visto i miei video e volevo però fare una considerazione su sui tempi che stiamo vivendo sui social soprattutto e vi spiego brevemente cosa cosa non mi è piaciuto io ho lo smartphone come tutti ringrazio che hanno inventato la tecnologia perché credo che sia una cosa una cosa molto comoda termine giusto e comoda sempre fare acquisti una volta dovevi prendere la macchina oppure andare adesso avendo uno smartphone fai presto a fare degli acquisti quindi è molto comodo è molto comodo per tante cose e se viene usata bene è una cosa utile e comoda come ho detto prima arriviamo al punto mi è capitato di di essere iscritto io sono iscritto a tik tok e mi è capitato di aver visto dei video ma proprio anche perché proprio nella cronologia no ci sono tutti questi video è capitato che è morta una ragazza qualche giorno fa e ho visto tutti sti video di con questa barra bianca e tutti questi ragazzi con questi smartphone che filmavano la barra che usciva e facevano mettevano queste melodie io non ce l'ho con il sud per carità perché sono mezzo meridionale pure io quindi però queste melodie napoletane da strappa lacrime riposa riposa e video questa barra che usciva ma io dico ma abbiamo ancora un minimo di rispetto perché vedo che non c'è più rispetto per i morti per carità uno su qualsiasi social può mettere quello che vuole sono d'accordo con voi ma io lo trovo di uno di un disgustoso prendere fare un video a una barra che esce quando ero piccolo io ma fino a qualche anno fa prima dell'avvento di sti social quando passava una barra stava in silenzio si pensava quella persona perché la conoscevo se andavo invece adesso basta che uno faccia un video su tiktok tutti amici ma abbiamo perso l'ora dell'amicizia il valore del rispetto perché quello lì c'è una famiglia anche che piange questa persona cioè noi andiamo lì con il telefono a filmare per poi avere delle visual perché il punto è questo ragazzi ma o sono io che sono un boom perché si usa questo termine oppure c'è qualcosa che non va cioè ritorniamo ad avere un po' di rispetto per le visual ma per le visual ma stiamo fuori ma qua non ci siamo più ma io la trovo una cosa del prolevole una schifezza ve lo dico sinceramente e poi ogni tanto vedi è capitato che è morto un dirigente della fiorentina qualche giorno fa si chiama barone di cognome combinazione ero lì su tiktok e vedo riposa parole che è un giocatore che ha vinto il mondiale del 2006 ma lui non è morto io mi sono solo permesso di dire guardate che questo non è morto sapete cosa mi ha risposto quello che ha fatto il post e allora cioè e allora cosa ma ma ti fa piacere se mettono la foto di tuo padre che ancora vivo spacciandolo per morto ragazzi io dico solo una cosa mettiamoci nei panni di quelle persone e di quei familiari perché abbiamo perso anche l'empatia buona serata a tutti